Usa la consaggia E questo rubrica Stiamo contro M.M.G.A.L. Bullwax Che è un ragazzo che ho conosciuto Ciao De anni naturalmente Vabbè facciamo un po' Però ho perso tutti i ragazzi, ma lui ha voluto sfidarlo, però non l'ho sfidato comunque, quindi dai, ciao! Ciao! Perché mi hai chiamato? Sì! Perché è tu? Però i giovi c'è un treno Eeeh, questo è Vantan Sì! Arca norco! Eeeh! È finito! Finito! A me piace giocare questa qua! Daiii! Vediamo che favo! basta il turno, vai non c'hai arti, sono troppo alti mi devi casciare ah questo qua vorrei che voglia di più un caschingo eh 3 2 vabbè questo è un mazzo molto sano sii pronto all'azione è tutto bene 1 2 non ho abbastanza male un blocco una perma, perfetto spero ti piace la mia invenzione è un carica sii compà ahahah non difesi per ora per ora ma non difesa 4 2 6 4 2 6 2 2 3 3 4 4 4 4 5 5 6 6 6 5 6 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 18 15 15 non ho abbastanza mano non è male sta mano vediamo vediamo eeeh madonna Non sapranno mai cosa Colpite forte velocemente 3-6 Si 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 Na Si Si Is Si Per culo Per fortuna Quindi ragazzi Saluto Per fortuna Non so Non so Mi voleva fare 15 danni Mi voleva anche sbattere E io non ho Ho chiuso prima E questo è tutto Bella alla prossima